Prosegue il programma di eventi natalizi a Torre del Greco, concerti di musica sacra, animazione, laboratori dedicati ai bambini organizzati lungo le strade cittadine. La manifestazione dal titolo Area di Festa ha ottenuto ampiamente il successo sperato, come dichiarato ai nostri microfoni, dall'assessore Gennaro Russo. Gli eventi sono stati tanti, ultimo dei quali quello di stasera che è stato un qualcosa di meraviglioso, il concerto dell'orchestra Pavlo Dar nella Basilica di Santa Croce. Avremo un altro evento importante al Multisala Corallo, avremo ospiti della nostra città, artisti a livello di Isa Danieli e Giovanni Mauriello. Oltre a quelli che abbiamo avuto, abbiamo avuto Sebastiano Somma con un meraviglioso evento, con la regia tra l'altro di Franco Cutolo in Piazza Palomba, abbiamo avuto tanti eventi in Villa Comunale, tra l'altro abbiamo organizzato il villaggio in Villa Comunale che ha avuto un successo di pubblico enorme. Siamo soddisfatti come assessorato alla cultura perché gli eventi sono andati bene, abbiamo portato tanta gente da fuori città che è venuta in città e ha portato tanta allegria, abbiamo visto per strada tanta gente, abbiamo visto finalmente una città viva, una città che ha voglia, ha voglia di coesione, ha voglia di convivenza civile, ha voglia di stare insieme. Noi non possiamo fare altro che accompagnare sempre questa voglia con eventi di qualità ed eventi di un certo livello artistico.